Allora, abbiamo acceso tutto, siamo ancora qui Stiamo facendo i controlli di rito Eppure si muove Stefano Meneganza Stefano Con la pista in asfalto? Ah, è bella Ma sai che mi sta cucinando di quelle voglie di prendere il pericolo da pilota? Piacere Segniamo buono di andare in macchina Tasi Tasi, per piacere Almeno sarebbe quello per il Delta Plan Siamo pronti Eh, più l'è, come quello l'è, come quello l'è, come quello l'è, come questo prima Preparalo qui Eh, qui ti devi buttare Eh, qua, sì Oh, una piccola biratina Eh beh, ci vuole Va benissimo Attenzione Questa ripresa è fantastica Questa ripresa è fantastica Questa ripresa è fantastica Allora, voi non ci crederete, ma sta pilotando, Claudio, aiuto! Ma è fantastico, perché pensavo una cosa più complicata? E io sono pochino... no, ok, va così ok, adesso la pista mettiamo un po' a nord ok, la pista va bene bravo eccola là oh, ho visto allora, la pista l'ho individuata è resa quella è resa quella eccola lì e dopo la centro quella è andata a riscura però sono assicurato i malettini da diversi e rimuirli c'è una pensione a vita è vero però non pagna è sempre facile la casa più delicata i nostri eroi eccoci touch down eccoci, airy company bravi bravi bravi, bravi bel volo, bravi come quando si fa con gli italiani che fanno gli applausi ai piloti che hanno fatto un bellissimo pianaggio della piazza